salve ragazzi benvenuti in questo nuovo video vedete dei macci nuovi vedete salvo che è diventato femmina per l'anno a selestra fabrizio che è diventato come femmina e io che sono rimasto maschio perché io femmina non ci diventerò mai si convertirà pure lui non è vero mia cugina francesca mia cognata sonia che già la conoscete l'avete visto in qualche video di outlast tipo di un anno e mezzo fa amnesia the dark descent penso si pronunci così premessore non conosco il gioco ne ho sentito parlare l'hanno fatto grandi youtuber questo si ok ok loro proprio peggimia concentrati ci stai concentrando? ma cosa devo fermare? non lo so il mio nome è daniel jack daniel sarà lui sicuramente la mia bottiglia ce la vedo avete portato il jack daniel? allora o è morto o dopo il cannone è caduto a terra e svenuto a terra e svenuto qualcuno ha lemestruo nella tettoia perché cadeva gocce di sangue ok ci siamo alzati non so dove siamo chi siamo perché siamo qua teoricamente sto correndo è sempre ancora drogato ci sono macchie rose a terra e questa gente carina qui che mi guarda raccolto scatola contente l'esca e l'acciarino a me ti rappuscare affa ma che è di pesca sto gioco sicuro indie horror perché scatola contente l'esca e l'acciarino ah di nuovo ah spero ne buttiamo la bottiglia per subito jack daniel jack perché può essere sempre c'è jack dove è jack? dove? ve l'avete visto? posso appartirlo a qualcuno? boh vabbè ma poi sono attaccato alla bottiglia può servire magari un solsetto una volta ogni tanto se no queste cose rosa qui è petalosa ma non facciamo anche vino che è? è vino no vino superpito sta scopando un tiro no no sta scopando un tiro cade un tiro ma che è con l'asso? ma che è? è mezzo fuso è mezzo fuso in italiano corretto no è che sono caduta a terra a forza di girare mi non girate pure i coglioni ma mi posso buttare pure la sige è per tirarla secondo me minchia se spunta qualcuno a cussire ma manco giusto in bocca durava delizie turche delizie turche in bocca buttiamo oh è caduta di nuovo oh oh dovresti utilizzare la sceglie di bucca aspetta io sto provando tutti i tasti voi non mi state rendendo conto che sto marcando tipo per elisa di bethoven qualcuno ha le mestro là sopra ci sarà qualcuna che mi segue dall'alto questa è in fase avanzata dopo due o tre giorni quando già incomincia è dura e pieghevole non puoi essere spezzata da due mani o strumenti ha riscaldato un pochettino ahahah hai spero gliela ti no gliela ti forse si forse lo devi fare col fuoco ma che che è la pietra col fuoco no cretino cioè ci avevano a te nel paleolitico morivano tutti praticamente chi co che c'è qua chi è chi è sta calma ce ne vede ce ne vede oh ma c'è oh oh addio 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 ma devi rompere proprio quello bello sono troppo intelligente minca ragazzi qua il gioco si sta infittando che ha oggi apri qualcos'altro o manco il libro aspetta forse è qualcosa questo non c'ho vero visto l'ho aperto ora si no ma che hai perchè c'è la musica ah me l'ha più qua si la chiave si la chiave ma che cosa lontano ho visto ho visto qualcosa che camminava lontano e non va bene minca lo sapevo io che diventava di merda sto gioco ora si che laboratorio a lei l'ha trovato ha trovato ha trovato ha trovato ha trovato ha trovato apri questa cantina dove va la cantina uuuu uuuu siamo a cura piano piano non ci agitiamo non è successo niente niente come andiamo al buio quali sono i peggiori uuuu io dico che me ne ho la ti hanno bussato la porta io già mi preparo pitta la ricillantata non vado a prendere ti hanno bussato la porta hello it's me l'olio l'olio no sul furo aaaah il coso che cercavamo eeeh niente niente i cannoni niente i cannoni i cannoni proprio ho come l'impressione che ragazzi inseguirà qualcuno perchè abbiamo trovato ciò che non dovevamo trovare c'è io sono sensato uuuu praticamente aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah uuuu 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 nel laboratorio devi andare ma la posi sta cosa glielo tira in faccia che forzo dov'è che dovevo andare sopra dritto 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 davanti a me vado dritto senza mai girare ragazzi ci siamo ci stiamo disintossicando 1 cagina ora 4 la droga la droga contenitore di acido e che devo fare lo soci ma deve andare andale no la volevo chiudere proprio pensate si è spuntati qua devo scappare di la affineria lasciate un bel like sono solo per l'ansia l'ho visto giusto giusto qua non ne hai andiamo piano piano ti gioca e ti ammazzi no vicio non si fa non si fa così però no noam ma stai i le ho queste e tre mesi così no però no così cioeo mettete un dislike nono il dislike lo mettete il mi piace per la merda diaporizio che ci ha fatto morire no Ahhhh Certo non devi scappare giustamente AHHHHH Perché l'ha portata? AHHHHH C'è aperta, è stata La giardina, brava Chi fai? Che dovevo scappare? AHHHH Visto? Bccd No vedi, appena accendi la luce è successo Avevo un motivo di fare Attento Ma che ho? No, ma chi è però? Ma il zambio, ma no, ma com'è? Allora, io mi chiedo Mica che cazzo E vai, siamo giù Cos'è sta succedendo? Succede qualcosa di brutto C'è il ragazzo? Io sento C'è qualcosa che cazzo Ok ragazzi Ma l'ha attivato Non c'è il dò Ma andiamo qua, fa qua Quando l'è indietro te lo puoi fare Qua, questo non è là E' giusto C'è sotto pure la luce A sinistra Ma è detto Le cancele, le cancele Qua, 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 qua Batta le sale Piccetti c'è Parcurre nell'acqua Mettete un like Ok, sono stato bravo Prendila Dai, fallo per me Prendila, bravo Piano piano Ok Ok Aham Sette cari ma, ma per chi? Ok, avviciniamo Oh, me lo stai spostando Già sono solo l'acqua Sì, 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 sì Arriveremo Squillano pure i telefoni intanto Ma vabbè Oh no, tu mi devi spiegare perché se sono qua sopra Sono in acqua Sto forse è passata Non lo so, non si apre Non so dove sono Oh mio Dio Qualcosa mi seduce là Minchia, sono un mito Uh, siamo al tunnel dell'archivio Applauso per il tunnel dell'archivio Non so come ci sono arrivato Ma ci sono arrivato Con il computer che mi andava contro Ma ha chiuso il gioco Me l'ha messa in colna Mi ha aperto la cosa davanti È successo di tutto e di più Su questo io vi chiudo Perché basta Cazzo Salva i resci Salviamo Perché lo continueremo prossimamente Anche con salvo vedremo Lo continueremo Faremo un secondo episodio Siamo arrivati qui Abbiamo fatto Gran parte di gioco Diciamo che all'inix È stato un po' deludente Però poi Si è andato riprendendo piano piano Poi c'è stato il colpo di scienza Esatto E poi anche grazie a mio fratello Che non so che cosa stiamo Perché non gli so Senta O lei parla Ringraziamo Ecco che spunta È stato lui Quello che ci ha notato La palla per tutto il video È stato lui Quindi No ragazzi Poi non ti metto Oltre la cia Oppure se per te Ah Ecco Lui è stato quello Che ha fatto Con il video Ha fatto questo Lui Ci lo prego io Quindi se il video Mi è piaciuto Ma vi mettete un bel mi piace Se ce lo meritiamo Anche perché c'è Se c'è pure mia cugina Volta inedito Mettete un mi piace per lei Anche perché non voleva registrare Quindi incitiamola Con un bel mi piace Condividete il video Con i vostri amici Lasciate un commento qui sotto Fateci sapere cosa ne pensate Iscrivetevi se non siete ancora iscritti Da Michele Sonia Francesca E Vito che è là sopra Che non lo vedete È tutto Per dove è fatto Per the full monster channel Allora ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Ciao